portapala austriaco ex dotazione esercito austriaco anni 80 questo portapala è costruito in un materiale gommato una tela gommata molto molto resistente bullonata alla sua base da tre rivetti come potete vedere passanti due agganci metallici passante per cinturone ovviamente di tipo austriaco poi ha un bottone automatico e una particolare apertura rapida perché una volta sganciato il bottone automatico si apre immediatamente per facilitare l'estrazione della pala che potrebbe essere utilizzata in attività di emergenza al suo interno troviamo il foro passante per far uscire l'eventuale manicatura della pala può essere utilizzato altresì come portapala di vario genere poiché molto ampio all'interno e questo diventa un foro autosvotante attacco metallico moschettuncino tecnopolimero e fettuccia in cordura tipico bottone automatico austriaco zirinato sopra bordato cucito molto bene ai lati tutto bordato